baby play farm montessori è un gioco adatto ai più piccoli per fare le prime scoperte nella fattoria con le sei cartelle ambiente le tesserine sagomate impari davvero tantissime cose lo sapevi che il cavallo dorme nella stalla e che le api producono tanto buon miele lo sai dove si coltiva le patate nell'orto non disturbare la gallina sta covando le uova con baby play farm sviluppi l'intelligenza naturalistica e tu di che intelligenza sei